Come rinnovare una facciata in pietra o mattoni a vista Livello di difficoltà, un martello Nel tempo, le fughe di una facciata in pietra o in mattoni si deteriorano Per ridare solidità alla struttura e offrire una migliore protezione contro le infiltrazioni, occorre rinnovarle Serviranno cemento, stucco per fughe, disincrostante e un prodotto idrorepellente Dobbiamo avere a portata di mano un punteruolo, una mazzetta, una smerigliatrice angolare con disco diamantato Una spazzola in acciaio, una spazzola con setole di radica, uno scopino, un secchio, un cassoncino Un trapano con frusta miscelatore, una cazzuola a lingua di gatto, una cazzuola, un frattone, un ferro per fughe Uno scalpello piatto, un nebulizzatore da giardino, una bacinella, un pennello, eventualmente un sac à poche e un tubo per irrigazione Dobbiamo prevedere l'uso di guanti da lavoro, occhiali di protezione e guanti per prodotti chimici se usiamo il disincrostante Facciata in pietra a vista Svuotiamo le fughe con la mazzetta e il punteruolo fino a 3-4 cm di profondità Con un martello demolitore e una punta adatta, il lavoro sarà ancora più rapido Facciata in mattoni Svuotiamo le fughe con la smerigliatrice angolare con disco diamantato, fino a 1-2 cm di profondità, in base alle condizioni del muro Pulire efficacemente Rimuoviamo la polvere con la spazzola in acciaio, poi bagniamo con un getto d'acqua Se usiamo un'idropulitrice, evitiamo il getto circolare, troppo potente per le fughe Pietra a vista Rimuoviamo tutte le pietre instabili e i residui di cemento, poi puliamo con la spazzola in acciaio Umidifichiamo la zona e fissiamo la nuova pietra con il cemento, inserendo dei cunei per regolare la fuga Mattoni Rimuoviamo i mattoni rotti o crepati, svuotiamo bene la cavità e puliamola con la spazzola in acciaio Umidifichiamo, poi fissiamo il nuovo mattone con i cunei Lasciamo indurire il cemento per 24 ore prima di riempire le fughe Umidifichiamo la facciata con il getto d'acqua per favorire la presa dello stucco Preparare lo stucco Prepariamo lo stucco in un secchio con la quantità d'acqua indicata dal produttore Misceliamo fino a ottenere un composto omogeneo, sufficientemente compatto, da usare entro un'ora e trenta circa Per le facciate in pietra è ideale lo stucco nella tonalità pietra Riempire le fughe Mettiamo lo stucco sul frattone tenuto in orizzontale Avviciniamolo al muro proprio sotto la fuga da riempire Spingiamo a fondo lo stucco nella fuga con la cazzuola a lingua di gatto Lo stucco dovrà affiorare dalle pietre Diamo una forma regolare, ma senza preoccuparci troppo dei dettagli Raschiare le fughe Dopo 2-4 ore, non appena lo stucco incomincia a indurire, raschiamo la superficie per livellarla Poi spazzoliamo per levigare e rimuovere la polvere D'estate nebulizziamo un po' d'acqua sulle fughe per evitare che lo stucco, asciugandosi troppo rapidamente, si ritragga o si distacchi Umidifichiamo la facciata con il getto d'acqua per favorire la presa dello stucco Preparare lo stucco Prepariamo lo stucco in un secchio con la quantità d'acqua indicata dal produttore Misceliamo fino a ottenere un composto omogeneo, sufficientemente compatto, da usare entro un'ora e trenta circa Riempire le fughe Mettiamo lo stucco sul frattone tenuto in orizzontale Avviciniamolo al muro in corrispondenza di una fuga verticale e riempiamola aiutandoci con il ferro per fughe Ripetiamo in corrispondenza delle fughe orizzontali Lasciamo affiorare un po' lo stucco dai mattoni Rimuoviamo l'eccesso con la cazzuola a lingua di gatto, sciacquandola spesso per non sporcare i mattoni Riempire con il sac à poche Riempiamo il sac à poche e posiamo un cordone di stucco continuo tenendo la punta leggermente sopraelevata Rasiamo e lisciamo con il ferro per fughe Rimuoviamo l'eccesso di stucco con la parte tagliente della cazzuola Lisciare le fughe Quando lo stucco comincia a fare presa, lisciamo le fughe con la spazzola, senza premere a fondo Se la superficie dei mattoni resta macchiata, trattiamola solo quando lo stucco è indurito con il disincrostante, seguendo le istruzioni Sciacquiamo bene dopo il trattamento Dopo una decina di giorni, applichiamo sulla facciata una soluzione impermeabilizzante Il prodotto in colore crea uno strato invisibile che protegge dalle infiltrazioni Oltre a migliorare l'impermeabilità alle intemperie, questo rinnovo restituisce alla nostra facciata il suo aspetto originale